E' scaduto alla mezzanotte il tempo a disposizione per la presentazione delle stanze di partecipazione al concorso per la copertura di 28 posti vacanti al Comune di Sciacca, dopo la riapertura dei termini che si è resa necessaria a seguito del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione legato all'emergenza Covid, che ha previsto la riduzione delle prove d'esame e dunque l'accelerazione dei tempi per la conclusione della procedura selettiva. Si tratta infatti del concorso già bandito dal Comune di Sciacca nello scorso mese di marzo e che aveva già registrato circa 7.000 istanze di partecipazione. Adesso sono poco meno di 8.500 i partecipanti per 28 posti a tempo pieno e indeterminato. Con la riapertura dei termini infatti sono arrivate altre 1.396 domande. I posti sono 4 per istruttore direttivo tecnico, 1 per istruttore direttivo di Polizia Municipale, 2 per istruttore direttivo assistente sociale, 5 per istruttore direttivo amministrativo contabile, 4 per istruttore tecnico, 5 per agente di Polizia Municipale, 6 per istruttore amministrativo contabile, 1 per istruttore esperto informatico. Adesso il Comune di Sciacca dovrà appaltare ad una ditta specializzata la gestione della preselezione, si spera entro dicembre, superata la quale i candidati saranno ammessi alla prova vera e propria, ossia un test a risposta multipla. Il decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione ha ridotto le prove di esame eliminando sostanzialmente quello orale. A proposito di personale comunale, a distanza di una settimana dall'entrata in vigore del Green Pass obbligatorio per i lavoratori, non si è registrato alcun problema al Comune di Sciacca. Il controllo del Green Pass è stato demandato dai vari dirigenti a uno o più addetti che lo effettuano giornalmente a tutti i dipendenti. Personale comunale che è tornato negli uffici dopo un anno e mezzo di smart working, ad eccezione di 5 soggetti estremamente vulnerabili per i quali la normativa prevede la possibilità di continuare a lavorare a distanza. Dipendenti tutti negli uffici, ma uffici che continuano ad osservare le norme di contenimento del Covid, ad esempio quello dei tributi continua a lavorare tramite appuntamento che deve essere fissato tramite telefono, mail, altri ancora, ad esempio l'ufficio tecnico apre a pubblico in determinate giornate ed orari. Per agevolare il cittadino, evidenzia oggi l'assessore al personale Nino Venezia, è stato appaltato il servizio che consentirà tramite mail di sottoporre un quesito o una problematica da risolvere e ottenere un appuntamento con il dirigente o il dipendente competente, se non addirittura riuscire a risolvere il problema anche a distanza.